bravo di qua di qua dove vai di lì di qua tronchetto anche lì piano è così obbligato bravo l'ha fatta molto meglio di me ma molto meglio tre volte meglio di me l'hai fatta bravo andiamo dai 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 oh no lì no lì c'è il telaio nero si rovina i posti qua non mi piacciono neanche un po voglio vedere a fare questo voglio vedere il troppatore a fare questo vediamo se riesco a capire si forse una volta è spampi non questo no forse una volta lo facevamo se si raccordavano questo forse si così no no anche salti salti giù ecco bravo che già così così in cambio che ti tocca dentro la pedivela e ti ammazzi mi fa mal la spalla mi fa mal la spalla fuori di tenere il telefono mi fa mal la spalla ma noi l'abbiamo fatta noi tre l'altra volta non l'abbiamo fatta voglio vedere questo tronco al tronco hai messo ma te sei impazzito ascolta ti sono su 450 visite di quel tronco lì si si io vendo il rame lele lele io vendo il ram è una sfida è una squì è una sfida e lui vende la moto io vendo il ram io rimani prendo il condito politico e lui e qualcuno ecco pierre ti ti non ti 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 Grazie.